Buonasera Mario Di Nolfi, popolo della famiglia, alternativa popolare. Mario Di Nolfi è un collega, un giornalista, con un passato politico nutrito, parte dalla democrazia cristiana, partito popolare, poi approda al partito democratico e nel 2016 fonda il partito della famiglia. Il popolo della famiglia. Battere la peste bianca della denatalità, non si fanno figli. Sì, nel curriculum manca la mia laurea in storia, nel XIV secolo si fu la peste nera e la peste nera è il momento più tragico della storia d'Europa, perdemmo decine di milioni di europei. Per una malattia, lei dice che la denatalità è la nuova malattia. La denatalità è la nuova malattia d'Europa e l'Italia purtroppo è maglia nera perché ha il tasso di natalità più basso dei 28 paesi europei e con questo tasso di natalità l'Italia e l'Europa sono destinate a vedere sgretolarsi le colonne del welfare. Il welfare europeo è la caratteristica degli stati europei. Se vai negli Stati Uniti e vuoi partorire non partorisci gratis. La mia terza figlia è stata partorita da mia moglie pochi mesi fa nell'ospedale pubblico Santo Spirito in Sassia, gratuitamente. Qualche cosa di buono quindi ce l'abbiamo. Ogni tanto qualcosa di buono si fa. Ce l'abbiamo. Allora, lei che cosa vuole fare per la famiglia? Beh, la prima cosa che vuole fare è battere la peste bianca e invertire il tasso di denatalità. È il giorno giusto perché il Consiglio dei Ministri si arrabbatta a quattro giorni dalla fine della campagna elettorale per fare qualche pannicello caldo per la famiglia. Lì dicano il ministro Fontana col vicepremier Di Maio a chi è più bravo a quattro giorni dalle elezioni a fare provvedimenti per la famiglia. Per un anno non è stato fatto niente. Noi proponiamo il reddito di maternità, che è una vera soluzione al problema della denatalità. Mille euro al mese per otto anni alle donne che intendono dedicarsi in via esclusiva alla vita familiare e alla crescita del figlio. 96.000 euro in otto anni che rappresentano la possibilità per le donne di avere un diritto in più, stanti tutti i diritti attuali, il diritto di fessere madri. Però 96.000 euro moltiplicato per? Bisognerebbe vedere quante sono le persone che andrebbero in questa condizione. Il primo anno forse 100.000. E la nostra proposta è abrogare il reddito di cittadinanza, che è una misura assistenziale, una misura che costa 7 miliardi, una misura che oggettivamente sta producendo crescita zero, questo ci dicono tutte le statistiche sul 2019, mentre l'investimento sulla famiglia e sui figli è investimento produttivo. Dove ci sono più figli cresce di più il PIL. Quindi chi vota il 26 maggio, popolo della famiglia, lo fa per mandare in Europa chi ha la testa molto lucida su questo tema, chi pensa che i principi non negoziabili identificati dalla Chiesa Cattolica siano principi da difendere, chi pensa che la libertà scolastica sia il modo di risolvere le questioni della scuola in Italia e in Europa, secondo il modello del costo standard proposto da Soranna Monia Alfieri, ancora una volta una religiosa. E mi faccia dire, c'è un mondo che noi rappresentiamo della radice cristiana, che torna a voler essere protagonista politicamente. Qui lei adesso farà la carrellata, vedrà quelli con la falce e martello, un paio di partiti fascisti, un altro paio che candidano Mussolini. Possibile che solo i cristiani siano spariti dal protagonismo politico. Che Cinque Stelle dica, se tu sei anti-abortista non ti puoi candidare sindaco di Cagliari, però se hai fatto l'utero in affitto puoi candidarti sindaco di Bergamo. C'è qualcosa che oggettivamente non va. L'altro giorno ero con Walter Boero, il nostro candidato presidente della regione Piemonte, a fare un'iniziativa bellissima, ma assolutamente partecipata, con tante suore, legiosi, alpini. Ho visto Repubblica fare un titolo, lo zoo variopinto di suore e alpini. Il tempo, insomma, un po' di rispetto per i cristiani che lavorano in politica. Grazie.